La struttura essenziale della Costituzione è liberal-democratico-personalistica-social-democratica, perché hanno concorso diverse ricche e articolate ideologie nel disegnare la nostra Costituzione, la quale, essendo un progetto, è anche un'alea, cioè è come i dadi, vengono gettati e poi qualche cosa succede. È successo che fino a un certo momento il progetto, con lentezze, con ritardi, con ostacoli, però ha trovato gambe su cui lentamente avanzare, da un certo momento in poi si è detto ma insomma la Costituzione è figlia del suo tempo, è obsoleta, è troppo dirigista, è troppo statualista e quindi si è parlato per l'appunto contro lo Stato sociale di riforme che venivano definite riforme liberali, di solito anche riforme coraggiose, che voleva dire riforme che faranno perdere consenso perché sono rivolte contro la maggioranza dei cittadini. Ora, che quelle riforme fossero liberali ha senso soltanto se si identifica il liberalismo con il liberismo, il che si può fare se si è appunto Einaudi o Hayek e invece non lo si fa se si è Benedetto Croce. Come è noto c'è stato a suo tempo un bel dibattito da cui è uscita l'idea che il liberalismo non è soltanto libertà economica di intrapresa, cioè che l'essere umano a cui si riferisce il liberalismo non è solo un imprenditore, ma è un essere umano che deve fiorire in tutta la sua complessità che è sinonimo di libertà. Quando la complessità diventa autocosciente è la libertà e questo è un impianto idealistico appunto crociano. L'alternativa di scuola sostanzialmente austriaca marginalistica è la libertà di scegliere in favore della propria utilità. Sulla base di informazioni che purtroppo sono diverse fra ciascun attore, perché la situazione di partenza è diversa, questa libertà di scelta statisticamente all'ingrosso, se lasciata libera, attraverso infinite interazioni produce un equilibrio statistico che è tutto quello che ci possiamo aspettare da questo mondo. Un ordine non progettato ma spontaneo e questo è Hayek.